Sul palco del Teatro Petrarca più di 50 musicisti, studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia ad indirizzo musicale e del liceo musicale di Arezzo. Così si è concluso il progetto, con noi l'albero cambia, piano delle arti e teatri in rete. Il frutto di un lavoro che è durato da mesi, abbiamo fatto poche prove insieme ma molto intense e questa sera penso che hanno dato il loro meglio e vedere nei loro occhi, nei loro volti la voglia di suonare, la voglia di fare bene, la grande concentrazione è stata la migliore ricompensa per il lavoro svolto. Attraverso laboratori teatrali i ragazzi hanno anche costruito la trama narrativa dello spettacolo ispirandosi a tematiche legate all'ambiente e alla natura. Un incendio lontano, nella terra batto pugni, corro, vedo nuvole lontane, riusci ancora a provare dolore. Un percorso di orchestrazione collettiva partito dalle musiche composte e rielaborate dagli stessi docenti degli istituti coinvolti. Ho pensato a un paio di brani che potessero raccogliere i quattro elementi naturali. Il primo Lissen è un brano molto più etereo che praticamente descrive l'acqua e l'aria, mentre l'altro The Last Dance è un brano che è più incentrato sulla terra come radici, anche pesantezza all'inizio. E poi soprattutto quando esce il fuoco c'è appunto questa danza che diciamo esplode.